Finalmente viene riaperta ai cittadini quest'area pedonale importante, è stata riqualificata, c'è la nuova pavimentazione, le nuove panchine, un'illuminazione tutta nuova e ci siamo fatti trovare pronti per il periodo natalizio. Qui sarà realizzato un mercatino natalizio di prodotti tipici legati all'atmosfera del Natale, quindi nonostante sono passati tanti giorni, tanto tempo, ci siamo riusciti, stiamo facendo le pulizie generali, si è risolto anche il problema degli alvaretti e degli alberi e adesso per Natale e per fortuna la mettiamo a disposizione dei cittadini nella nostra città. Oggi consegnano la piazza alla città e da domani si montano questi famosi mercatini di Natale, quindi Piazza Massari sarà illuminata a natalizia, ci saranno più di 20 operatori, quindi ci auguriamo che questa sia una piazza che possa ritornare a vivere con i baresini. Oggi avviene un arretramento dell'area di cantiere che viene circoscritta soltanto alla zona intorno alla statua di Niccolò Piccini e contemporaneamente dal pomeriggio di oggi cominciano il montaggio dei box, dei prefabbricati relativi al mercato natalizio. Quindi c'è una mattinata che vede lavori eseguiti in concomitanza, infatti stanno facendo il lavaggio e successivamente cominceranno il montaggio altre ditte.